Cari amici ho visto un filmato del 2000, tantissime donne di 22 anni fa cari amici, adesso io vi voglio far vedere, era dedicato alle donne, sentiamo? Suor Virgilia, via Diaz, guardate come era una volta, guardate come era una volta l'università qua, ecco un'altra simpatica suora che gira veramente tantissimo, questa mi ricordo questa mia amica che già da un po' che non la vedo, eccola qua, la sua piccolina ecco qua, le pallovoliste di via 20 settembre grazie Pasquale che mi hai ricordato, anche quelle di Trieste ecco qua, la posta archivio di Roby Gorizia TV oh, Laura, fate attenzione, mi dice stai attento che ti faccio due telecamere Laura, del segno del cancro la supervigilessa ha detto che la telecamere me la fa nuova sì, nuova, me la fa nuova se non vado via ancora, è veloce Laura 20 anni fa no, 22 23 mi sembra, perché adesso siamo nel 2023 23, eccole ecco qua, saluto la Sabrina a destra del bar e queste due dolcezze del comune e il bar della grande Sabrina neve quando c'era la stella salutiamo, questa è la moglie di un avvocato bravissima, una super donna, anche questa 23 anni fa, cari donne salutiamo la grande autista questa bella biondona qua 23 anni fa, cari amici questa è un'altra che guidava delle corriere che sono rimasto secco io, a vedere qua siamo ancora in via quando c'era ancora che si prendeva la corriere qua in via 9 agosto sì guardate, guardate che roba 2020 2000, adesso siamo a 2023 perciò 23 oh, Marina la grande Marina dell'Acquario eccola qua che mi dava una mano in ufficio un altro gioiello qua quando che qua era nel 2000 era arrivata veramente il ghiaccio su tutti gli alberi era una cosa impressionante saluto questa dolcezza delle associazioni industriali guardate qua e qua c'era il ghiaccio veramente, cari amici salutiamo questa dolcezza questa grande mamma questa grande donna guardate c'erano gli uccellini che non riuscivano a stare su eccola qua ci volavano proprio perché c'era il ghiaccio veramente questa invece è quella del carnevale di non so carnevale di o di Mofalcone o di un altro paese oh, saluto le due belli oh, mia figlia guardate un po' adesso ha fatto 30 anni 30 anni ha fatti saluto queste due poliziotte da favola occhi veramente da sballo oh, guarda qua salutiamo questa dolcezza che la conosco una poliziotta adesso è in pensione penso con i suoi due piccolini oh, Miriam guarda Miriam eccola lì vediamo questa oh, guardate che bionda roba da guerra salutiamo la poliziotta eh ciao 23 anni fa cari amici oh, guardate un po' chi c'è salutiamo queste dolcezze la mamma di Pasquale era la mamma di Pasquale eccola qua io li corro dietro adesso guardate un po' questa vigilessa oh, tutta rossa ragazzi guardate che roba io rompevo le scatole un po' a tutti eh, però oh, allora ecco qua salutiamo dedicato alle donne eh guardate questa grande mamma con il suo piccolo oh, guarda chi c'è Elena dalla Bulgaria oh, guarda qua l'altra super donna oh la mamma di di la moglie di Roldo ecco la figlia la mamma ecco vai vai dedicato alle donne eh cari amici questo l'ho trovato e la voglio far vedere subito siamo in chiusura praticamente la bellezza di 23 anni fa 23 anni fa archivio di Robi Gorizia TV dedicato alle donne anche quelle che rompono noi li amiamo tutte un grande salutone ciao a tutte le donne bene direttore lo comando le miele risultate queste ciarie andiamo grazie a tutti